Sarebbe la versione familiare della media premium di Audi, ma la nuova A6 somiglia molto di più a un'ammiraglia con spazio di carico aggiuntivo. Il design, la qualità costruttiva e le dotazioni tecniche ne fanno una vera regina della strada, rivale diretta delle wagon Mercedes e BMW. L'Audi A6 è lunga quasi 5 metri, ma lo stile affusolato e sportiveggiante ne dissimula le dimensioni. Il bagagliaio va da 565 a 1680 litri. Sette i motori disponibili, di cui quattro a gasolio, abbinabili sia alla trazione anteriore che a quella integrale. I più interessanti sono il 2000 TFSI da 180 cavalli, il 2000 TDI 177 cavalli e il 3000 TDI 245 cavalli. Quest'ultimo è offerto anche in versione da 313 cavalli.